Quando ero al primo anno di scultura, vi era all'Accademia una giovane bellissima modella, quasi una bambina, che si chiamava Caterinuccia. Aveva due anni meno di me. Ci innamorammo subito l'uno dell'altra, ma direi da bambini. Con lei vinsi al secondo anno di scultura il premio del nudo. Con lei, lavorando nel mio studio, modellai la mia prima statuetta, la Ruth, che, fusa in bronzo, esposi al Circolo degli Artisti, fondato da Massimo D'Azziglio e allora Centro Aristocratico dell'Arte. Avevo 17 anni. Al Circolo Artistico conveniva la migliore società borghese aristocratica di Torino. Gli artisti, specie i pittori, pochi e quasi tutti bravi, vivevano, si può dire, delle due esposizioni, quella del circolo e quella della promotrice, poiché tutte le famiglie abbienti, nobili o borghesi, si facevano un dovere e un vanto di almeno un'opera. C'erano poi le vendite al municipio, a società private, al re, ai principi, per cui, facendo bene ed emulandosi l'un l'altro, gli artisti erano quasi certi della vendita delle opere esposte. La Ruth fu molto apprezzata e fu acquistata da re Umberto. Incoraggiato da questo successo, sempre con la Caterinuccia come modella, cominciai subito la monachina, dopo il voto, che anch'essa fuse in bronzo, esposi l'anno successivo alla stessa mostra, ottenendo un tale successo di critica e di pubblico che essa venne acquistata dal municipio di Torino per il Museo Civico. Me ne furono anche ordinate molte riproduzioni e debbi anche molte commissioni di statuette e busti, nonché dei monumenti funerari per il cimitero di Torino, che, rivedendoli dopo tanti anni, mi hanno reso felice di averli fatti con tanto amore, anche se per pochi soldi. Quelle ordinazioni accrebbero sì il mio benessere, ma furono causa di invidia, non solo da parte degli artisti più giovani e dei miei compagni dell'Accademia, ma anche e soprattutto di artisti affermati, uno dei quali, il più vile e terribile, mi perseguitò finché visse, affermando che ero antiquato e lezioso nella forma e nella modellazione, e che il mio era un successo da donne, malignando sul fatto che ero un bel ragazzo. I miei compagni non mi erano più amici, ma gelosi e invidiosi, e tutto ciò che a me pareva bello per loro era scadente, lezioso e antiquato. In tale confusione di giudizi, ed avendo bisogno di guadagnare per vivere, non sapevo più che fare. La Caterinuccia, che con i suoi guadagni all'Accademia e con quel poco che potevo darle io, si era resa indipendente, mettendo su una piccola casetta, veniva a posare da me a tutte le ore che aveva libere, la domenica, nei giorni di festa e specialmente nei periodi delle grandi feste come Natale e Carnevale. Allora il mio lavoro si intensificava, al punto da chiudermi nel mio studio e non uscirne più per giorni interi. Ma ahimè, anche lei era fatta segno a gelosie per il suo amore per me, specialmente da parte di un famoso critico della stampa, che era anche segretario dell'Accademia Albertina. Costui voleva ad ogni costo che la ragazza gli si concedesse, sotto minaccia di non farla più posare e a me, che ero già all'ultimo anno di scuola, faceva ogni sorta di angherie. Fu allora che il pittore Gastaldi, che insegnava all'Accademia con fontanesi e gamba, mi disse studia le lingue e vai all'estero e io, per quanto addolorato all'idea di lasciare Torino, decisi di tentare l'estero. Grazie.